Stamattina abbiamo visto qual era l'offerta museale Ravennate, come è nato e come funziona il nostro sistema, come questo diciamo fino a oggi. È chiaro che vista la situazione e l'aggravarsi della crisi anche in provincia stiamo pensando di ridisegnare un po' il nostro sistema, di trovare quindi, di capire come gestire la cultura, valorizzare i nostri musei attraverso nuovi assetti gestionali. È chiaro che la crisi impone più che altro di ridisegnare gli assetti amministrativi anche per razionalizzare queste risorse che sono sempre più scarse, lo sappiamo tutti. Viviamo sotto la scure della spending review costante, in realtà quello appunto che dicevo ora, quello che invece occorre fare è proprio ridefinire gli assetti istituzionali, dare delle precise funzioni, quindi quello sì, razionalizzare, basta funzioni doppie o triple come succede adesso con le risorse poi spalmate un po' qua e un po' là e quindi sfruttate male. Da questo punto di vista è esemplare il nostro caso, quello che ha investito la riforma o le riforme insomma sulle province, lo sapete, c'è stato un momento in cui si era deciso di abolirle e poi invece c'è stato un ripensamento per una loro, come dire, riorganizzazione su aree vaste soltanto che anche adesso è stata, come dire, sospesa in attesa di capire che ruolo dare a questo ente se mantenerlo innanzitutto o se invece cambiarlo. Questa situazione di incertezza istituzionale soprattutto per i musei pubblici ma vada a sé anche per tutti gli altri non ci aiuta la prima a essere tagliati, i fondi a essere tagliati sono proprio quelli della cultura è per quello che la provincia, il sistema in realtà, sta cercando di immaginare delle possibili percorsi indipendentemente da quello che deciderà la riforma istituzionale in corso. Lo sapete che parlando di cultura di razionalizzazione dei fondi che ormai non ci sono più e che comunque proprio tutto il comparto della spesa pubblica è quella più sotto la scure c'è questo proprio restringimento dell'area degli investimenti nella spesa nel settore cultura un mese fa sono usciti il Corriere della Sera anche altri pubblicavano i dati di Eurostat in cui per quanto riguarda l'investimento della spesa pubblica in cultura l'Italia era l'ultima in Europa cioè proprio il fanalino di coda con l'1,1% del PIL a fronte di una media del 2,2% quindi persino la Grecia da quel punto di vista investe più di noi ma è chiaro il disegno si taglia innanzitutto lei cosa pensa del volontariato che è legato al mondo dei musei in generale nel senso come sistema il vostro secondo me dovrebbe più garantire l'idea di dare il giusto guadagno e quindi la giusta dignità ad esempio alle persone che hanno studiato invece l'Italia tra virgolette ha un 60-70% di persone che in modo poco dignitoso pur di continuare a lavorare per quello che è stata la loro vocazione lavorativa continuano a lavorare in forma di volontariato cioè senza avere un vero contributo in questo modo come si fa ad avere una crescita? noi continuiamo a parlare di tagli però se invece si riducesse il bacino e si dicesse ok lavorano solo due persone però quelle due persone devono essere stipendiate e quindi si va a creare una dignità di quello che si fa non si avrebbe un sistema diverso cioè noi parliamo di reti però all'interno di queste reti le persone che lavorano sono persone che lavorano veramente cioè che è un lavoro o è qualcosa che dovrà avere a che fare con il volontariato perché forse prima di parlare di un sistema di rete si dovrebbe capire ma in questo sistema di rete andiamo ad incanalare delle professioni o andiamo ad incanalare delle figure professionali che sono diverse da una professione a una figura professionale nel senso che la professione comporta un guadagno uno stipendio, una regolamentazione la figura professionale è una persona con una laurea che forse in qualche modo vuole sfruttare e fa diventare quello che era un lavoro, un hobby con poca dignità quindi cioè si potrebbe avere una soluzione cosa serve allora a creare una rete se invece non si crea qualcosa da inserire nella rete si deve sempre pensare il museo andrà avanti per atti di volontariato che fondamentalmente per come l'avete io sono sbagliati perché finché uno dirà mi va bene lavorare gratis non ci sarà mai nessuno che dirà in un museo allora io ti assumo tanto c'ho gli altri 150 che lavorano gratis adesso io parlo anche per la mia esperienza di persone che lavorino gratis nei nostri musei non ce n'è il volontariato c'è con un rimborso ma stiamo parlando di persone che fanno apertura nei piccoli musei per esempio il sabato o la domenica quindi comunque è una cosa marginale io stamattina ne ho parlato abbiamo fatto degli regolamenti proprio per evitare questo perché il volontario comunque non vada a svolgere il lavoro del conservatore o dell'esperto della didattica quindi noi come rete intanto quando appaltiamo dei servizi la garanzia, la qualità del servizio che è dato proprio da un'alta professionalità è quella no, è certo, è sempre garantita ma la stessa cosa torno a dire l'ho detto stamattina forse non sono stata molto chiara per quello che può fare la rete e ripeto anche qui, sottolineo la nostra è una rete di coordinamento noi non decidiamo per il sindaco del comune che decide di coprire un posto di responsabile nel suo museo e cosa decide di fare facciamo in modo che nel bando poi nel capitolato sia garantita la qualità del servizio attraverso alta professionalità abbiamo anche affrontato questo discorso del volontariato come dire disincentivanto in alcuni musei magari l'uso del volontario come operatore museale magari sottopagato ma insomma anche noi non è che abbiamo il potere o possiamo decidere per il singolo comune o per il singolo museo per cui... No, no, era solo una domanda perché se ne parla anche negli ultimi giorni si parla proprio di questo che i musei italiani sono in crisi non c'è questo grande bacino d'utenza e quindi molto si basa sul volontariato di persone non parlavo del mio caso era proprio un ragionamento molto generale per capire se una rete quindi può chiedendo degli standard anche andare a sopperire a questo passaggio cioè bloccare finalmente questo fenomeno e dire no c'è bisogno di questi standard c'è bisogno di contratti di persone che ci garantiscono un servizio in un determinato modo era solo per capire quello perché è proprio notizia di questi giorni continua i musei sono a rischio molti chiuderanno da quello che si sta dicendo e forse l'unico modo per mandare l'invito è il volontariato allora cosa creare a fare anzi cosa continuare a fare esistere le università di... Ma adesso sui giornali si scrive un po' di tutto No, no, no quello che io penso è che università come quelle di beni culturali di archeologia di storia dell'arte se poi devono essere sempre un bacino diciamo di crescita ma non lavorativo perché si vede il volontario sempre che lavora e molto spesso è un appassionato di questo ma non una persona che veramente ha studiato quindi quello che io dico spero che nei prossimi regolamenti o se riusciremo anche noi qui in Capitanata a diventare una rete riusciremo anche a sopperire a questo perché comunque è quasi un aborto continuo questo di creare solo volontari volontari e mai creare una garanzia o creare la garanzia per una persona che poi alla fine si mantiene con l'aiuto di altri volontari era solo legato a quello non era una critica all'era no no ma va bene allora vado avanti per quanto riguarda il nostro contesto di riferimento anche in questo adesso magari vado un po' più veloce visto che sono cose che abbiamo visto anche in parte in parte stamattina però anche qui come scrivo per un'effettiva valorizzazione delle risorse cioè c'è bisogno di un'effettiva valorizzazione delle risorse umane proprio per elevare la qualità dei servizi è per quello che la domanda che noi ci stiamo ci stiamo ponendo in questo in questo momento è proprio come è possibile provare trovare una soluzione nel momento in cui le risorse si assottigliano sempre di più se non come abbiamo visto in tanti casi il budget è già pari a zero in particolare noi la soluzione certo non è la panacea io non ho le delle verità in tasca come dire proviamo a trovare delle possibili soluzioni proprio per arginare questi problemi e perlomeno quantomeno per mantenere i servizi già esistenti e poi laddove si riescono anche a migliorare benvenga occorre quindi proprio ripensare degli assetti gestionali diversi moderni le due idee chiare naturalmente sono avvalersi di risorse private quindi un'esternalizzazione parziale o totale dei servizi museali naturalmente secondo i modelli gestionali quindi laddove sono più efficaci ed efficienti l'altra soluzione che è quella di cui mi occupo più io è quello del lavorare in rete e anche qui proprio lavorare in rete significa fare massa critica quindi riuscire in questo modo magari anche ad assumere delle persone assumere persone quindi far crescere il servizio museale magari riuscire a trovare delle entrate maggiori e quindi innescare un circolo virtuoso per cui magari si riesce anche ad aggiungere un'altra professionalità al museo non è a caso appunto che il codice dei beni culturali prevede per i servizi museali queste tre forme di gestione appunto quella indiretta e quella associata quella associata che può essere anche naturalmente diretta ma anche indiretta poi c'è la gestione mista che la dottrina considera una variante della gestione diretta solitamente almeno questo succede nei musei della nostra rete il direttore comunque la figura del responsabile è quasi sempre in capo al museo all'ente proprietario e altri segmenti operativi invece sono forniti tramite appalto o anche tramite l'ausilio del volontariato locale ma come dicevo almeno per la nostra rete il volontariato non ha compiti scientifici tecnici ma ausiliari sono molti nella nostra rete i servizi esternalizzati come vi dicevo adesso credo forse l'ho messo dopo comunque c'è anche un grafico quello riferito al dato del 2001 forse una slide successiva comunque lo sapete non è più possibile fare appalti consistenti nella mera fornitura di personale ad ore bisogna naturalmente definire il servizio che la persona va a svolgere ne sono più possibili gli incarichi individuali esterne per prestazioni di natura ordinaria e continuativa negli anni adesso un incarico deve essere comunque a progetto e comunque non può avere una durata superiore mi sembra ai tre anni ecco la gestione in diretta naturalmente quando l'intera gestione del museo è affidata all'esterno può essere affidata in appalto o meglio ancora in concessione a terzi cioè la concessione a terzi quando anche il soggetto esterno prende su di sé i rischi connessi al fatturato oppure ci possono essere anche altre forme di esternalizzazione previste dall'ordinamento varie adesso istituzioni fondazioni un po' meno sicuramente per i musei sicuramente non per quelli ravennati società in house aziende speciali eccetera ecco anche questo nel codice dei beni culturali è chiaro in ogni caso nella scelta del soggetto esterno mediante concessione o appalto deve comunque avvenire mediante procedure a evidenza pubblica proprio sulla base di un confronto di progetti l'appalto di servizi in particolare con l'affidamento mediante asta pubblica o una procedura negoziata quindi previa gara informale invitando almeno cinque concorrenti oppure procedure semplificate per affidamenti di importo limitato anche quello poi se è il singolo ente che individua determinate fasce per quanto riguarda l'apparto dei servizi per un ente pubblico va sempre verificata l'eventuale presenza dei servizi che si vogliono appaltare appaltare sul MEPA il mercato elettronico della pubblica amministrazione che adesso è lo strumento prioritario dove andare ad acquisire i beni e i servizi se naturalmente il MEPA non è presente si procede altrimenti i servizi in concezione invece quando affidamento a un soggetto esterno selezionato mediante asta pubblica o sempre con procedura negoziata previa gara informale tra almeno cinque concorrenti sono norme simili l'ordinamento fa delle piccole distinzioni ma comunque le procedure sono simili ecco in ogni caso è importante nel momento sia che si fa un appalto in concessione a terzi che garantire la qualità ne parlavamo prima cioè è importante sarebbe importante privilegiare il meccanismo basato sul binomio qualità prezzo proprio per garantire delle professionalità alte quindi con l'offerta economicamente più vantaggiosa e non invece il sistema del massimo ribasso che potrebbe appunto non salvaguardare gli standard di qualità delle professionalità che poi andranno a dare il servizio anche qui va bene la letteratura si pone spesso questa domanda se bene i servizi culturali hanno meno una rilevanza economica anche perché poi cambiano le procedure per quanto mi riguarda solitamente no per i piccoli musei no perché insomma tendenzialmente tutti i musei sono in perdita al più per i musei di maggior estensione dimensione servizi e quant'altro l'ordinamento consente l'esternalizzazione totale dei servizi con concessioni a terzi o affidamento diretto a società mista o affidamento diretto a società in house ma stiamo parlando di musei veramente grandi tra l'altro la percentuale nazionale in Italia di musei grandi con un'estensione superiore ai credo 100.000 metri quadrati cioè proprio molto grandi sono veramente pochi pochissimi l'altra strada sì questa sì sì certo ecco però concessione affidamento a società mista a società in house torno a dire mi sembra che siano delle esperienze che si registra proprio col contagocce che è insomma Brera non so la rilevanza economica essenzialmente da cosa è data? la rilevanza economica è data dall'entra esatto oddio se c'è un range oddio se c'è un range preciso non lo so però sicuramente laddove esatto le entrate perlomeno superano le uscite quindi c'è un guadagno ecco l'altra soluzione possibile è quella invece della gestione associata quando più musei decidono di associarsi mettere in rete i servizi museali c'è un'associata che può essere appunto comunque diretta mista o indiretta da questo punto di vista almeno la regione Emilia Romagna io parlo spesso di unioni dei comuni conosco la realtà della nostra regione incentiva molto la nascita e lo sviluppo delle unioni che possono e che sono proprio una forma associata dei comuni per cui ad esempio nel territorio come vi dicevo nel nostro territorio ci sono due unioni dei comuni potrebbe unificare l'intera gestione di tutti i musei dei comuni che aderiscono o meglio come dice l'ordinamento di tutta la funzione culturale perché economicamente non è ritenuto valide frammentare in segmenti uno stesso settore per cui di solito almeno nei piccoli comuni e qui stiamo parlando di questo il settore cultura si occupa di musei di biblioteche di archivi ma si occupa anche di attività culturali per cui a questo punto la gestione dei musei comunque la gestione unificata è in rete dovrebbe essere dell'intero settore culturale dei comuni ma questo è tutto anche dei teatri eh sì dipende la dovrezza sì noi in realtà ci siamo posti questo problema perché nel Ravennate esiste l'unione dei comuni della bassa Romagna sono associati nove comuni e è già una realtà abbastanza consolidata è nata già da qualche anno prima era un'associazione e ha iniziato veramente a gestire in maniera associata molti servizi ma non la cultura noi come rete come dire abbiamo abbiamo chiesto ma perché non lo fate effettivamente anche lì ci sono delle professionalità per esempio da mettere in rete o quant'altro sono tutti poi comuni limitrofi piccoli quindi sarebbe ma loro mi spiegavano che non è conveniente gestire in maniera associata solo i musei bisogna perché poi lì a questo punto c'è un direttore ci sarebbe poi il direttore dell'unione per quanto riguarda la gestione dei musei ci sarebbe troppo e tra l'altro a questo punto se anche i singoli comuni continuano a gestire in maniera autonoma per esempio le attività culturali teatro il cinema le sagre e quant'altro ecco che si crea la diseconomia perché magari lo stesso dipendente che prima seguiva magari i servizi museali magari l'amministrativo ma anche altri perché conosco molti i piccoli musei che sono magari inquadrati come figure responsabili conservatori così ma si occupano anche oppure addirittura direttore del museo che però organizza anche tutti gli anni la manifestazione la sagra il patrono e quant'altro quindi se magari i musei e i dipendenti dei vari comuni sono sotto l'unione però lo stesso dipendente nel singolo comune continua a svolgere anche autonomamente altre attività culturali ecco che si dice che non è più economicamente vantaggioso quindi io vado a sociale per avere un risparmio però poi spendo i soldi più soldi per gestire le attività culturali quindi o va tutto il comparto e a questo punto se nei comuni certo nel settore ci sono anche i teatri a quel punto c'è la gestione associata di tutto il comparto cultura di solito però i teatri immagino che siano nel settore cultura poi ecco il lavorare in rete trova proprio un principio nella nella stessa costituzione attraverso appunto i principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza il principio di sussidiarietà lo sappiamo è praticamente secondo il quale la generalità delle funzioni spetta ai comuni questo proprio perché una maggiore efficacia si ha una maggiore efficacia nella gestione dei servizi proprio grazie alla relazione più vicina alla vicinanza con i cittadini il problema qual è che magari per fare questo aumentano i costi per cui ho un problema di efficienza oppure se voglio ridurre i costi mi si abbassa naturalmente la qualità del servizio e questo appunto è un tipico esempio dei nostri piccoli musei a questo punto l'ordinamento ha introdotto due correttivi al principio di sussidiarietà che sono quelli di differenziazione quindi che non tutti i comuni possono assumere la totalità delle funzioni amministrative quelle che non hanno le dimensioni adeguate per farlo non lo facciano quello che interessa in particolare a noi è il principio invece di adeguatezza cioè i piccoli comuni il principio di adeguatezza dice che i comuni devono aggregarsi o disaggregarsi alla ricerca dell'ambito territoriale adeguato noi naturalmente che trattiamo di piccoli comuni è il principio per il quale i piccoli comuni devono aggregarsi tra di loro per cercare appunto l'ambito territoriale ottimale per gestire i servizi i vantaggi del lavorare in rete sono molteplici anzi in realtà sono due in particolare maggiore efficacia e maggiore efficienza per quanto riguarda l'efficacia come vedete è possibile garantire una maggiore professionalità degli operatori specializzazioni delle strutture ma anche una maggiore stabilità degli operatori per quanto riguarda la loro carriera maggiore flessibilità con le sostituzioni ampliare nuovi servizi anche in generale una maggiore una maggiore forza politica e anche una maggiore capacità progettuale due cose che naturalmente permettono di intercettare più finanziamenti e l'altro vantaggio appunto di maggiore efficienza grazie alle economie cosiddette di raggio d'azione e alle economie di scala va da sé lo ripeto sempre che lavorare nella gestione associata rispetto per esempio all'esternalizzazione è una soluzione adatta valida soprattutto per i piccoli enti i piccoli musei i piccoli comuni ecco la legislazione all'ordinamento ci dice che le funzioni fondamentali individuate dalla legge 95 del 2012 dei comuni fino a 5.000 abitanti quindi i piccoli comuni devono obbligatoriamente essere gestite in maniera associata gestita attraverso le due forme previste dall'ordinamento per quanto riguarda la gestione associata che sono convenzione e unione dei comuni non c'è l'obbligo invece per i comuni più grandi che possono decidere liberamente quindi se creare se gestire in maniera associata con gli altri comuni le funzioni culturali d'altra parte come dire questa cosa sarebbe anche auspicabile anche per le reti quelle obbligatorie dei piccoli comuni perché si è visto che sicuramente una gestione associata funziona meglio laddove non sono tutti piccoli comuni ma dove c'è anche qualche comune più grande dicevo stamattina la funzione nelle funzioni dei comuni fondamentali individuati dal nostro ordinamento non c'è la cultura quindi l'ente locale può decidere liberamente tra l'altro anche proprio a questo punto se erogare i servizi culturali o meno e in ogni caso se o meno gestirli in forma associata vi dicevo le due formule previste dalle sue soluzioni previste dall'ordinamento per la gestione associata dei servizi sono la convenzione tra enti ai sensi dell'articolo 30 del Tuel che è un semplice accordo convenzione immagino che tutti abbiate le abbiate viste un accordo tra più enti proprio finalizzato a gestire in maniera associata a uno più servizi di solito le competenze sono delegate a un comune leader che poi deliberano per conto degli altri è la forma di collaborazione più flessibile e leggera di quelle previste dal Tuel ed è una formula che tra l'altro garantisce la massima diciamo autonomia dei singoli aderenti alla convenzione invece l'unione dei comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico è un ente locale vero e proprio ha una propria personalità giuridica ha propri organi di riferimento proprie risorse proprio personale e viene istituito soprattutto per la gestione unificata di molti servizi e complessi quindi questo rispetto alla convenzione sicuramente è una forma di collaborazione più stabile quindi quella che potrebbe garantire la qualità e il miglioramento dei servizi una variante è l'unione montano o solano una variante dell'unione dei comuni ora quindi in base all'articolo 115 del codice lo dicevo anche prima comunque la scelta del modello gestionale deve essere sempre attuata previa una approfondita valutazione comparativa dei modelli in termini di efficacia e di efficienza e di sostenibilità quindi no se esternalizzare o mantenere in casa e associare comunque qualunque sia la soluzione che gli enti sceglieranno le prestazioni devono rispondere a standard di qualità soggettivi e oggettivi i servizi devono essere forniti in possesso di standard soggettivi prescritti dalla carta nazionale delle professioni museali o eventualmente dal documento che abbiamo vi dicevo stamattina che ha predisposto la regione però d'altra parte per quanto riguarda ci sono anche degli standard oggettivi previsti proprio dalla carta dei servizi o da regolamenti del museo o del comune anche qui come dire non è un obbligo è una buona pratica è il modo giusto di come dire di gestire i propri servizi la normativa ci ha dotato di determinati strumenti e noi cerchiamo di applicarli ma torno a dire è la comunità e il governo che rappresenta poi a decidere cosa fare in questi in questi di tempi anche alla luce dei tetti di spesa del personale diciamo che la soluzione più frequente è l'esternalizzazione del servizio che potrebbe essere appunto esposta da alcune criticità magari soprattutto dal punto di vista della continuità gestionale poi anche lì dipende però esternalizzare un servizio intanto comunque c'è un tempo limitato e poi comunque il personale può anche cambiare ed è per quello che nel momento in cui si stipula il contratto di servizio bisogna porre attenzione bisogna richiedere tutta una serie di indicatori di qualità proprio per gestire per garantire la qualità e la continuità del servizio per i piccoli musei comunque la soluzione ottimale probabilmente è proprio quella della gestione associata vale sia per le unioni dei comuni che per invece le collaborazioni più sporadiche come quelle mediante convenzione per cui riassumendo per i comuni fino a 5.000 abitanti vale l'obbligo della gestione associata ricordo non per la cultura però va da sé se piccoli comuni si associano per la gestione associata di tanti servizi come dire mi sembrerebbe logico che lo facessero anche per quanto riguarda gli istituti culturali e d'altra parte questo è un principio che vale anche per i musei più grandi perché come si diceva magari i musei più grandi riescono da soli a mantenere i servizi già esistenti però sicuramente fanno fatica di questi tempi a crescere con le unioni abbiamo tra l'altro un possibile modello gestionale potrebbe essere appunto quello che tutti i comuni che aderiscono a una certa unione affidino le istituzioni culturali o la cultura appunto al settore cultura dell'unione lo dicevo prima il settore cultura dell'unione a questo punto comprende tutto il personale dedicato dai singoli comuni dedicato ai musei ma anche alle biblioteche e agli archivi e agli altri attività culturali alle dipendenze di un unico responsabile o dirigente dell'unione che è poi quello che assume tutte le varie determinazioni ecco qui si potrebbe creare un conflitto con i singoli direttori dei musei che naturalmente continuerebbero a fare i direttori dei musei e quindi dovrebbero sicuramente avere una sorta anzi dovrebbero avere autonomia sia decisionale che scientifica però su altri settori no? le unioni dei comuni già lavorano e funzionano e per tanti altri comparti hanno una gestione associata e più o meno le cose funzionano comunque stiamo sempre parlando di piccoli musei dove di alternative ce ne sono anche poche la regione Emilia-Romagna incentiva l'esercizio delle funzioni associate sia in via generale attraverso una specifica legge proprio che dà contributi alla nascita e allo sviluppo delle unioni ma sia anche nello specifico ambito culturale dove incentiva a questo punto l'esercizio associato delle funzioni ribadisco la gestione associata significa anche significa tranquillamente di poter scegliere se gestire servizi museali formula mista o indiretta quindi se esternalizzare tra l'altro tutto il museo o solo alcuni servizi gestione completamente diretta anche se secondo me sono veramente pochi ormai in Italia ad avere una gestione completamente diretta comunque è sicuramente che c'è un maggiore controllo di standard magari laddove l'ente particolarmente sensibile ma appunto non è facile garantire la presenza di tutte le professionalità la gestione mista presenta più vantaggi anche se una criticità può essere proprio quella che non non si riescono a massimizzare i possibili ricavi rispetto alla diminuzione dei costi e non è neanche chiara delle volte la responsabilità gestionale succede che chi lavora in un'associazione o cooperativa così delle volte deve dar retta al direttore del museo o al responsabile dell'associazione ogni tanto si creano questi conflitti la gestione è completamente esternalizzata anche questa naturalmente invece qui sono massimizzati sicuramente i ricavi rispetto ai costi ma ci sono delle ridotte possibilità di controllo dell'ente e anche qui non sempre poi il contratto garantisce gli standard contenuti per esempio nella carta dei servizi del museo gestione associata come vedete io non vedo criticità o perlomeno poi per i piccoli comuni se non quelle legate eventualmente ai conflitti che possono esserci per quanto riguarda sia l'apparato gli amministratori che i tecnici penso in questo caso più che alla convenzione che quindi è più ma un'unione dei comuni perché poi non ci dimentichiamo che un'unione dei comuni mette insieme magari amministrazioni di opposta pensiero per cui alla fine non è neanche così facile gestire un servizio laddove cinque vogliono andare a destra e cinque vogliono andare a sinistra comunque per quanto riguarda i nostri musei una fotografia quella sempre riferita al 2011 la maggior parte dei musei hanno una gestione mista quindi con l'esternalizzazione di segmenti di servizi c'è una gestione una buona gestione diretta un numero ma voglio fare presente che sono proprio i piccolissimi musei che praticamente gestiti dal direttore che fa un po' di tutto stiamo parlando però veramente del mini museo e che si avvale del volontariato solo per l'apertura e la sorveglianza non ci sono ah premessa sto parlando qui dei musei soltanto di natura pubblica non naturalmente questo per quanto riguarda le varie quali sono i servizi esternalizzati dai nostri dai nostri musei dei quei di 15 musei appunto che hanno una gestione mista come vedete dei servizi più esternalizzati sono quelli di guardiania e custodia quelli di vigilanza e pulizie e poi altri il bookshop e le visite guidate per quanto riguarda il personale dei musei pubblici del nostro sistema come vedete il 45% è in pianta organica del comune e di questo 45% diciamo quasi la metà più o meno è dipendente a tempo pieno e l'altra è dipendente part time vedete anche le unità le persone di questi musei censiti in particolare sono 21 c'è una buona fascia di volontariato che garantisce come vi dicevo soprattutto l'apertura e poi una parte con incarichi esterni eccetera anche sono stati conteggiati qui anche il personale di servizio civile quindi considerazione questo processo che tutto sommato è nuovo nella gestione associata ha bisogno sicuramente è un processo lento tutto da costruire e che secondo me richiede in questa prima fase una presenza collaborativa da parte di enti di istituzioni superiori come ad esempio può essere il sistema in ogni caso anche un'unione che gestisce in forma associata quindi i servizi museali può avvalersi della provincia o della regione per determinati servizi a rete dove c'è convenienza a gestirli appunto su aria vasta mi spiego vi dicevo prima che anche per quanto riguarda in generale le riforme in questo momento del quadro istituzionale sono molto incerte soprattutto per quanto riguarda le province sono state affidate determinate funzioni molto meno rispetto a quelle che erano prima però ciò non esclude che le regioni appunto deleghino delle funzioni aggiuntive alle province rispetto a quelle previste dalla legge in questo momento questa questa delega da parte delle regioni è come dire congelata le regioni devono decidere entro la fine dell'anno ma molto probabilmente si andrà in prorogazio ancora per un anno e quindi ancora per un anno noi vivremo nell'incertezza di ci saremo o non ci saremo ci occuperemo di cultura o no perché va da sé che la regione può decidere di mantenere la delega della cultura la provincia comunque o un ente intermedio alla legge la legge 135 del 2012 ha confermato che debba esistere cioè che la provincia quindi o la nuova provincia che sarà comunque continua a essere un ente di governo di aria l'asta con determinate funzioni amministrative anche se limitate se come dire invece le province dovessero essere abolite in ogni caso queste le funzioni adesso adesso svolte dalle province potrebbero comunque non se le province scusate fossero eliminate ma se gli vengono meno le competenze da parte delle regioni potrebbero comunque essendo comunque un ente di aria vasta l'ordinamento lo dice a metà via tra il comune e la regione potrebbero i comuni stessi delegare alle province tramite convenzione le funzioni che ha svolto in materia di istituti culturali fino adesso mentre invece se appunto le province non esisteranno più si potranno appunto pensare altre soluzioni per esempio anche quello che siano le unioni e i comuni a conversionarsi e mantenere una rete di aria vasta comunque quello che a me particolarmente preme sono anche insomma tanti anni che lavoro nella rete una rete sicuramente migliorabile ma una rete che ha avuto dei risultati sul territorio è quello di qualsiasi sia la formula istituzionale a cui si arriverà poter mantenere questi servizi che la rete museale ha dato in questi anni volevo anche ricordare così insomma che da una rilevazione che abbiamo fatto noi quindi insomma non sono dati scientifici l'abbiamo fatta tra l'altro guardando consultando molto il web per cui insomma c'è sicuramente un margine di incertezza ma comunque non ci allontaniamo troppo dalla realtà ci sono molte province in Italia che hanno creato delle reti che interessano in particolare 1741 musei e circa mille comuni e sto parlando di interventi delle province ecco abbastanza forti quindi contributi azioni non semplicemente per intenderci non abbiamo conteggiato quelle province che magari all'interno del settore cultura hanno pubblicato delle guide promozionali o quant'altro o il sito ma proprio delle azioni consistenti quindi come vedete i numeri ci sono nella provincia delle volte non si ha la percezione di che cosa faccia sono comunque interventi di diversa natura però sicuramente sono delle province che hanno ottenuto dei risultati in particolare quelle dove le province dove hanno investito anche delle risorse in questo noi abbiamo questa questa indagine sì a tutta l'Italia sì sì da nord a sud qui poi sto parlando non di musei provinciali di proprietà ma proprio di musei comunali e questi sono solo sì di musei civici coordinati o supportati attivamente dalle province sì sì no sono equamente distribuiti da nord a sud non ho messo la slide con la tabella perché essendo mille comuni insomma era insomma però e anche qui quindi insomma uno non si rende conto ma eliminare la provincia eliminare tutte le reti i sistemi gestiti adesso dalla provincia sicuramente crea un disservizio più o meno però comunque c'era qualcuno che dava dei servizi e investiva dei fondi che adesso non c'è più quindi uno svantaggio soprattutto per i musei piccoli quindi in attesa della riforma istituzionale noi possiamo ipotizzare tre scenari per mantenere le reti di musei quindi le attuali funzioni in materia culturale sono delegate dalla regione alle province esattamente come era la situazione fino a poco tempo fa le funzioni invece di coordinamento vengono delegate dai comuni e dalle unioni laddove esistono alle province e invece in caso di soppressione delle province i comuni e le unioni si convenzionano per mantenere in vita appunto queste reti esistenti dunque qui cosa qui ripeto più o meno le stesse cose però a proposito appunto di reti da mantenere noi a parte salvare i servizi della rete la nostra rete museale faccio l'esempio della della rete bibliotecaria che abbiamo nella che è nata per volere della provincia di Ravenna 30 anni fa è una rete che abbraccia da provinciale poi diventata sovra provinciale comprende quindi anche le province di Rimini e di Forlì quindi è una rete romagnola ed è anche una rete dove aderiscono 200 biblioteche a 300.000 iscritti conta oltre un milione di prestiti l'anno e ha nel catalogo oltre 3 milioni e mezzo di record bibliografici tra l'altro è stata la prima rete ad aderire al servizio SBN bibliotecario nazionale e in realtà è una rete che si struttura proprio come Polo SBN quindi un servizio informativo periferico di SBN ed è anche la rete più grande la rete bibliotecaria più grande d'Italia che investe mediamente ecco le biblioteche è una rete come nostra di supporto forte coordinamento è anche una rete però gestionale gestisce parecchi servizi centralizzati con le biblioteche naturalmente si riesce a fare gestisce proprio il catalogo online tutta la digitalizzazione da un supporto biblioteconomico ai vari operatori gli operatori della rete che lavorano nella rete sono quasi 700 quindi voi capite che il nostro obiettivo è intanto unificarci con la rete bibliotecaria creando un unico sistema culturale integrato e anche però come dire in mentre si progetta questo appunto sistema culturale integrato e si arrivi a concretizzarlo potenziare tutte le funzioni di coordinamento tecnologico e di supporto dei servizi del sistema quindi comunque andare avanti a proposito di quello che facciamo la situazione che vi ho descritto in realtà noi adesso per quanto riguarda ad esempio la funzione educativa dove abbiamo sempre dato un forte supporto anche grazie al nostro laboratorio in questo nuovo scenario di gestione e della rete su un doppio livello si potrebbe continuare ad avere il coordinamento e il supporto specialistico da parte del sistema provinciale e invece affidare la gestione proprio all'unione o reti di comuni in ogni caso la gestione dei servizi museali deve continuare a come dire a trovare a disegnare un nuovo assetto proprio per cercare di creare tutte le possibili sinergie e questo appunto lo può fare consolidando le azioni quindi perché sapete insomma sono molti amministratori che magari delle province che hanno già come dire tirato i remi in barca ecco noi almeno vorremmo cercare non solo di mantenere ma di consolidare le azioni del sistema e anche però di cercare di unificare il livello gestionale in capo ai comuni quindi anche quello è un percorso che deve andare avanti quindi la rete a doppio livello è un modello gestionale in cui come dire noi crediamo e che a cui stiamo puntando per cui proprio in questo periodo come dire è un percorso da costruire però è quello che stiamo provando a fare quindi di creare a questo punto una rete più ampia che integra biblioteche musei ma anche gli archivi storici laddove ci sono per aprirli finalmente anche loro al pubblico attraverso questo appunto rete al doppio livello da una parte i comuni grandi o le unioni in caso di Ravenna è evidente che non entra in unione ne deve associarsi in convenzione col comune piccolino a fianco e invece l'ente di aria vasta qualsiasi essa sia per andare avanti su delle prassi già sviluppate la rete a doppio livello come dire è obbligata è una scelta obbligata di questi tempi perché persino come dicevo che il comune più grande ha bisogno di farlo ma attenzione anche appunto a non pensare di fare il modello appunto tutti insieme soltanto in questo caso la convenzione tra comuni oppure la stessa la stessa unione dei comuni intanto perché è fondamentale ricercare per i musei la sostenibilità economica dove ricavi e costi sono in equilibrio e proprio per cercare di mantenere una qualità dei servizi oltre naturalmente a ridurre i costi bisogna puntare a una gestione multilivello che noi abbiamo individuato in un doppio livello così praticamente bisognerà individuare quali sono le funzioni quali sono i servizi che vogliono essere conviene anzi gestire a livello di sistema a quale invece a livello eventualmente di singoli istituti ma comunque bisogna avere un sistema multiscala e per quello che si tratta di creare questo come vi dicevo prima un sistema culturale territoriale un sistema territoriale che non deve partire non deve essere costituito costruito dalle istituzioni quindi non deve essere la regione o la provincia ma appunto deve essere costruito sulla base delle caratteristiche reali di un territorio e in questo caso anche mettendo dentro sicuramente anche i musei privati perché spesso poi si creano queste gestioni comunque pensando solo al pubblico ma comunque abbiamo anche i musei privati e poi appunto come dicevo caso per caso bisogna individuare le aree di attività e decidere anche a che livello qual è il livello migliore in cui gestirle poi bisognerà anche eventualmente anzi bisognerà fare individuare qual è la forma giuridica migliore ma anche qui caso ogni volta in base al territorio le caratteristiche del territorio quanto grande quanto estesa chi sono i soggetti che gestione che attività svolgere si deciderà quindi ripeto il sistema multiscala ecco il sistema multiscala è comunque permette di creare questi sistemi integrati culturali riuscendo magari proprio ad assumere del personale ad avere del personale specializzato che permette appunto di innescare un circolo virtuoso scusate è caldo? quindi a partire proprio da questo modello noi stiamo cercando insieme alla rete bibliotecaria di creare questo sistema culturale romagnolo anzi in realtà noi partiamo proprio dall'esperienza trentennale della rete bibliotecaria e saremo noi a innestarci sulla loro esperienza dovremmo essere bravi più che altro a individuare le aree i servizi e decidere dove conviene più dove conviene dove è più opportuno e dove costa meno qual è il livello dove costa meno anche qui è chiaro i compiti di natura gestionale sono più adatti all'ente a chi è più vicino al cittadino e quindi in questo caso il museo o l'unione mentre l'area più vasta è come dire più opportuna soprattutto per i servizi tecnologici la rete bibliotecaria e la rete quindi museale sono fanno parte adesso anche di uno stesso ufficio perché prima non lo eravamo le biblioteche era gestita non dal settore cultura della provincia ma dal settore informatico proprio per l'alto tasso di automazione e di informatizzazione della gestione dei servizi bibliotecari comunque la nostra la biblioteca la rete bibliotecaria il sistema museale come vi dicevo collaborano già da alcuni anni per cercare di creare un'offerta culturale integrata proprio per valorizzare in generale il patrimonio del culturale della provincia senza fare distinzioni e anche comunque con un occhio di riguardo al turismo allo sviluppo del turismo culturale proprio per rafforzare con l'obiettivo di rafforzare le strategie promozionali usando tutte le potenzialità di internet e anche per cercare di avvicinare il pubblico del web 2.0 anche se insomma ai nostri beni museali che abbiamo avviato con la rete delle biblioteche questo progetto che vede il trasformare il catalogo già esistente della rete bibliotecaria che si chiama Scoprirete che è il catalogo online con un'interfaccia come dire più amichevole appunto che usa tutti gli strumenti conversazionali interattivi del web 2.0 quindi non il classico catalogo opac un po' rigido non dico respingente però sicuramente non bello e appunto di creare un catalogo Scoprirete Musei e Biblioteche è un catalogo a cui stiamo lavorando proprio anche questo in questi giorni il catalogo Scoprirete prevede proprio la realizzazione della convergenza tra musei e biblioteche grazie alle caratteristiche di interoperabilità del software usato che nel caso della provincia di Ravenna è Sebina Open Library e in particolare poi Sebina U questo cosa significa che è possibile mantenere per entrambi i cataloghi gli standard catalografici appunto gli specifici applicativi però permette anche la valorizzazione integrata del patrimonio catalogato patrimonio sia bibliotecario che museale ecco qui vedete la struttura dello Scoprirete Biblioteche Musei dove praticamente convergono in questo catalogo web 2.0 tutti i dati del catalogo della rete bibliotecaria romagnola vi dicevo prima che si tratta di 3.500 records la parte del catalogo che riguarda i beni museali che è sul catalogo online curata dall'Ibc col programma Samira e per quanto riguarda i nostri musei sono censiti 80.000 beni e in prospettiva cerchiamo cercheremo di far confluire anche il catalogo online degli archivi sempre curato dall'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna comunque in Scoprirete non ci sono solo appunto i cataloghi riferiti della rete bibliotecaria e dei musei della provincia di Ravenna è possibile andare a pescare da altri cataloghi grazie appunto alla metaricerca questo è come dire l'home page del prototipo a cui stiamo lavorando in realtà stiamo già pensando di cambiarlo ma tant'è comunque vi faccio vi faccio allora sulla sulla destra vedete appunto i classici strumenti conversazionali mentre va bene la parte come dire centrale è quella dove la redazione praticamente di Scoprirete propone a cadenza settimanale o quant'altro delle proposte di percorso entrando in queste proposte è possibile navigare appunto tra i cataloghi ma anche appunto in altri cataloghi della provincia per quanto riguarda i beni museali della Romagna per quanto riguarda i beni bibliotecari ma come dico anche altro è possibile per esempio andare a pescare dal nostro catalogo online delle attività didattiche si pesca da youtube tutti i filmati o quant'altro a tema di un determinato argomento scoprirete adesso esiste quello delle biblioteche è molto usato bisogna insomma abbiamo censito bisogna avere appunto una password per entrare e quindi speriamo che questo strumento praticamente questo strumento serve non solo a promuovere come vi dicevo il patrimonio culturale il nostro patrimonio culturale in maniera integrata ma anche comunque come dire incentivare l'uso dei cataloghi stesso che delle volte soprattutto quello che riguarda i beni culturali sono veramente conosciuti agli addetti del settore e basta ecco anche qui un altro sviluppo attuale a cui stiamo lavorando è quello della comunicazione in mobilità e i dati censis del 2012 dicono che nel 62% degli italiani si è connesso l'anno scorso a internet che oltre il 41% è iscritto a facebook che 20 milioni di italiani usano lo smartphone e quasi 3 milioni tablet quindi sono numeri non indifferenti e tra l'altro è prevista come dire una crescita una rapida crescita soprattutto per quanto riguarda l'uso di smartphone e tablet è per questo che il sistema la rete sta lavorando ha messo in cantiere diverse iniziative proprio per promuovere nei musei la comunicazione mobile cosa fa? intanto è già da un paio d'anni che organizza costantemente dei corsi per gli operatori dei musei ma anche delle biblioteche comunque proprio per su questo argomento ma progetta anche dei percorsi interattivi col QR code e delle app per quanto riguarda i corsi e i seminari questi servono proprio a far conoscere tutte le opportunità della comunicazione digitale del web 2.0 illustrano ai nostri operatori le caratteristiche dei singoli social media da quelli più tradizionali a quelli di ultima generazione in modo che proprio gli operatori poi autonomamente possano sfruttare questi canali di comunicazione ci sono proprio anche il sistema da anche una consulenza per aprire e gestire la pagina facebook del museo twitter e quant'altro sono molto seguiti questi corsi infatti ne facciamo uno o due l'anno poi invece per quanto riguarda lo smartphone ecco qui eravamo partiti abbiamo dotato tutti i nostri musei come vi dicevo di audio guide adesso invece con l'uso appunto dei codici QR code è possibile aumentare come dire ampliare la comunicazione dei musei e anche tutto sommato il legame con il territorio prima si parlava dell'audioguida comunque da riportare nel museo in questo caso lo smartphone uno l'ha sempre con sé e c'è stato un percorso pilota già sperimentato in cui si inizia appunto il percorso in un museo faentino e si prosegue sul territorio anche in questo caso la provincia si fa carico di come dire di coprire le spese tecnologiche del progetto mentre i direttori dei musei stanno lavorando a costruire i contenuti ecco in questo caso rispetto all'audioguida dove c'è soltanto il file audio con il codice QR è possibile scaricare e visualizzare anche video testi testi con link che quindi rimandano altri tipi di navigazione e per cui anche anche in questo caso è stato concepito come un servizio gratuito cioè non è stato un business anche da arrivare intorno a questa costruita no per adesso no sì quindi lo stiamo costruendo tra l'altro adesso sicuramente affidare una ditta rifaccio la domanda volevo capire se diciamo intorno a questo progetto ci fosse un modello di business o comunque è solo un servizio offerto a titolo gratuito quindi un servizio in più offerto adesso come progetto pilota siccome dicevo è a titolo gratuito e tra l'altro anzi stavo anche dicendo che visto anche che le risorse sono sempre meno e che comunque la spesa come dire l'onere più grosso è quello dei direttori dei musei che devono costruire i contenuti strutturare il percorso all'interno del museo ma anche fuori in realtà la tecnologia che servirebbe potrebbe essere anche come dire fatta in casa per esempio il sistema conta su un supporto tecnologico molto forte soprattutto poi da quando siamo nello stesso ufficio della rete bibliotecaria per cui abbiamo già un server web dove c'è anche il portale dove poter gestire questi file che poi uno si scarica dove l'utente scarica quindi adesso anche quella è una valutazione da fare comunque in questo momento sono appunto in cantiere la realizzazione di più percorsi che prevedono appunto questa modalità di comunicazione e anche stiamo progettando un'app per i musei del sistema proprio stiamo 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 cercando di far sì che che non sia come dire un'app stupida dove praticamente che riversa semplicemente i contenuti della collezione o quello che può essere quello che si trova con un audio guida o una guida cartacea ma stiamo proprio cercando di trovare una formula tra il progettista e i direttori dei musei insomma una formula che sia particolarmente accattivante proprio per quello tra l'altro sono in cantiere due tipi di app uno per smartphone che quindi ha un approccio più di tipo informativo in particolare quello appunto con la realtà aumentata e anche qui sfruttiamo devo dire una sinergia con il nostro ufficio turismo che ha realizzato per le varie città della provincia appunto un'app con realtà aumentata dove noi invece prendiamo questa base questo programma già e ci costruiamo sopra invece proprio l'app specifica per i musei e un'app invece per tablet di tipo esperienziale con un occhio di riguardo per i ragazzi perché stiamo vabbè magari non è una cosa particolarmente originale ma abbiamo visto che funziona una specie di caccia al tesoro poi all'interno dei musei con questa app io intanto andrei verso la conclusione nel senso che come vi dicevo in attesa durante il percorso che stiamo adesso studiando per diventare trasformarci in un sistema culturale integrato romagnolo comunque il sistema museale della provincia come dire tira le file cerca anzi di rafforzarsi cercare di diventare una rete sempre più coesa in realtà il nostro sistema lo è già per rete coesa nel senso che tra i singoli musei si sono già stabilite parecchie rapporti internazionali interistituzioni sono tante le iniziative che i singoli musei aderenti alla rete organizzano e gestiscono insieme come dire senza più passare dalla provincia che mentre in una prima fase c'era questa cosiddetta rete stellare inizialmente era la provincia che rappresentava un po' il centro della rete a cui convergevano bene e male tutti i punti invece adesso già da anni ad esempio i nostri musei organizzano spesso delle mostre convenzionandosi tra di loro o anche altri servizi quindi da questo punto di vista noi cerchiamo e speriamo invece che queste relazioni diventino sempre più solide più strutturate non episodiche anzi ma che siano appunto ben strutturate e quindi con la gestione attiva anche dei singoli musei attraverso progetti condivisi quindi come vi dicevo potenziare nel futuro quello che in realtà sono già attività del sistema quindi attività integrate e professionalità in rete facciamo una pausa di 10 minuti sì va bene le domande finali dovrebbe venire pure il coordinatore Icon salutarci sì facciamo una pausa di 10 minuti e poi facciamo delle domande finali dovrebbe venire anche il coordinatore Icon ma io posso continuare però per adesso facciamo una pausa così ci rinfreschiamo un po' che fa un caldo scusate la mia lezione sulla gestione associata sempre con questa slide va bene ok anzi a questo punto faccio io le domande a voi perché come vi dicevo noi stiamo lavorando alla creazione a cercare di costruire quello che il mio dirigente chiama l'arca dove saltare e salvare i servizi erogati come vi dicevo da 30 anni dalla rete bibliotecaria e da 15 dal sistema museale creando appunto questo sistema culturale romagnolo romagnolo appunto vi dicevo perché a livello di biblioteche come l'esperienza è già quella a livello sovra provinciale e a questo punto si continua così anche perché magari l'assetto istituzionale che verrà deciso porterà avanti quello che a un certo punto si era deciso di fare cioè le macro province quindi ridefinire i limiti delle province e a quel punto la provincia di Ravenna non esisterebbe più comunque perché sotto i requisiti minimi per poter continuare esiste così come la provincia di Rimini e di Forlì per cui è già prevista la nascita della macro provincia di Romagna e a quel punto la rete bibliotecaria museale e archivistica a livello romagnolo naturalmente va da sé che verrà fatta però siamo appunto come vi dicevo cercando di definire tutto a partire dal possibile assetto proprio gestionale fare una fondazione un'azienda speciale e chissà continuarla a gestire in economia dall'ufficio della provincia come stiamo facendo adesso quindi appaltando anche in questo caso poi noi dei segmenti di servizio per esempio adesso la rete bibliotecaria tutta la catalogazione praticamente sono anzi loro sì quasi tutti non in organico ma appunto una gestione mista e quindi anche poi i servizi museali immagino che a quel punto si faccia un appalto unico o quant'altro e quindi stiamo però cercando di definire e di capire che cosa quali sono i servizi necessari affinché le piccole biblioteche i piccoli musei della Romagna grazie a questo sistema possano continuare a rimanere aperti e a dare dei servizi quello che mi sembra come dire già definito che come vi dicevo a livello politico ci sono stati molti incontri dei sindaci dei comuni delle città principali della Romagna proprio per dire sì facciamo vogliamo mantenere questa rete però appunto bisogna che sia una rete che prevede questo doppio livello di supporto da una parte e il supporto continua a fare soprattutto l'ente di aria vasta e invece scendere un po' più nella gestione a quel punto invece lo fa o il singolo comune se stiamo parlando di città come Ravenna Rimini Forlì Cesena oppure per i comuni più piccoli Leonioni o convenzioni tra comuni per cui quello che stiamo proprio cercare di definire è di capire dove collocare i servizi e soprattutto che tipi di servizi dare per cui voi che lavorate cercando naturalmente di essere anche realistici che siano servizi sostenibili come io dicevo che costi e ricavi siano in equilibrio quindi non so se voi anche avete suggerimenti oppure come operatori dei musei che cosa vi aspettate che vi dia una rete oppure quali tipi di sì quali tipi proprio di servizi io ve ne ho elencati qualcuno ad esempio sicuramente per i piccoli musei abbiamo visto che funziona molto quindi è da incentivare la formula di mostre integrate percorsi anche didattici integrati abbiamo visto che funzionano bene mi è venuto in mente che avevo una domanda sulle mostre integrate allora mi chiedo quando si parla di mostre integrate che cosa si intende non mostre itineranti ma una mostra un'unica mostra gestita in maniera appunto associata per cui è la stessa mostra spalmata naturalmente su 4 5 10 musei diversi che si sono convenzionati sono musei della rete quindi comunque hanno già un grado di conoscenza di relazione consolidata questo sicuramente facilita una mostra ad esempio faccio un esempio parlo sempre torna Domenico Baccarini questo personaggio faentino il comune di anzi entrò anche un comune extra provincia Forlì di Faenza e di Ravenna sono convenzionati c'era un comune in particolare poi Capofila che appunto ha gestito poi materialmente tutte le spese ma c'è stato questo comitato scientifico hanno elaborato una mostra una mostra che quindi era suddivisa in diverse sezioni nei quattro musei coinvolti perché erano tre comuni e quattro musei e quindi è quello il senso altre mostre ce ne sono state parecchie devo dire soprattutto nel territorio della bassa Romagna hanno organizzato per esempio delle mostre di arte contemporanea tra l'altro oltre alla mostra anche organizzando dei convegni dei seminari con le mostre organizzando anche in maniera alternata una domenica tour per i bambini alle sei musei sei si andava si partiva la mattina in autobus si facevano le visite guidate alla stessa mostra l'argomento era lo stesso naturalmente ogni museo poi la declinava chi con la pittura chi con la fotografia chi eccetera insomma solite cose però quindi si andava tutta la giornata in giro alla mostra si faceva anche la merenda tutti insieme questo una volta per i bambini una volta per l'adulto una volta per l'anziano oltre volta modulato diversamente ecco a quel punto anche lì dei musei con una convenzione hanno deciso di fare questa mostra integrata quindi la stessa mostra ma in sei musei diversi quindi hanno stabilito chi quanto costava la quota ognuno hanno dato ha speso tutto naturalmente il museo capofila il comune capofila che era anche poi quello dove c'era il curatore della mostra quindi proprio la mente scientifica e dopodiché e tutti gli altri comuni tramite convenzioni in questo caso la mostra è stata gestita come? nel senso con una convenzione tra musei con una convenzione tra comuni sì una convenzione tra comuni perché erano tutti musei civici e quindi è stata fatta una convenzione tra comuni e abbiamo visto che funziona perché come dicevo prima alla fine si creano delle economie i sei musei hanno potuto offrire alla propria cittadinanza una mostra che comunque avendo uno staff organizzativo scientifico e tecnico condiviso è costato sicuramente meno c'è stato un coordinamento nella promozione nelle attività collaterali quindi come dire anche la visita guidato il laboratorio è stato progettato uno è replicato su sei comunque c'è un minor costo ma ha avuto anche un grande successo perché perché è chiaro anche mia figlia che appunto adesso va a rimari al museo no grazie però quando c'è stata questa iniziativa le è piaciuto molto magari sarà solo in un museo vai a vedere no invece quest'idea di girare c'è più musei quindi che lo stesso argomento lo vedi spiegato in maniera diversa in ogni sede magari naturalmente con un legame al museo alle collezioni stesso e la merenda comunque ha fatto sì che il numero dei visitatori della fruibilità è stata molto più elevata se ogni singolo museo si no moltiplicando naturalmente se ogni singolo museo faceva la sua mostra e basta e il mezzo di trasporto a questo punto entrava in convenzione o era un mezzo pubblico? no era un mezzo entrato in convenzione quando è stata organizzata la mostra era una formula già sperimentata perché questi comuni si sono convenzionati una prima volta erano soltanto in tre nella seconda esperienza visto che la prima aveva avuto successo sono state in sei e a questo punto se ecco perché poi il problema qual è? in questo momento veramente di crisi fortissima non ci sono neanche più anche i sei o dieci comuni interessati a replicare l'esperienza viene organizzato ogni due anni perché comunque è abbastanza complessa quindi ci vuole il tempo naturalmente per strutturare il percorso i contenuti ecco stanno già pensando di fare la terza edizione appunto si sono aggiunti altri tre comuni ma si stenta a far quadrare i conti ed è per quello che comunque è chiaro e a maggior ragione se il singolo museo non ha neanche la quota parte da mettere per una mostra è chiaro che è un museo che quell'anno lì non organizza niente mentre in quel modo dà un prodotto un servizio di qualità a un costo veramente ridotto quindi è per quello che dicevo a livello poi gestionale è chiaro che una mostra così funziona se è gestita a livello più vicino al cittadino quindi qui sicuramente ci sta che sia o un'unione dei comuni se esiste però ci siamo posti poi anche quel problema lì cioè della continuità del servizio quindi se sul territorio esiste l'unione dei comuni e si trova un accordo tra sindaci per gestire in maniera unitaria e associata la cultura però tutto il comparto non solo la mostra perché se no anche lì l'unione ha già una struttura ha già i conti dedicati in cui si organizza una cosa per dieci comuni poi arrivano dei soldi non ci sarebbe neanche volendo bisogno della convenzione però bisogna che l'unione dei comuni decida di gestire in maniera associata tutta la cultura in questo caso questi erano per esempio tutti i musei di comuni aderenti alla stessa unione però la mostra integrata è stata organizzata con convenzione e la bigliettazione era unica? Allora anche qui la cosa si semplifica perché l'ingresso era gratuito e i nostri musei anche in questo sì magari complica un po' meno sicuramente la cosa i nostri musei ribadisco sono veramente dei piccoli musei e quasi tutti sono gratuiti prima infatti stavamo parlando nell'intervallo sull'opportunità per i piccoli musei di introdurre la bigliettazione o meno e tra l'altro anche per i musei medi si sta ripensando all'opportunità della bigliettazione certo no no ma adesso anche con la che ne pensa perché comunque i conti non quadrano e allora forse forse è meglio che il museo sia di tutti e che semmai si realizzi qualche evento a pagamento questo è il mio parere no certo anche per me penso ai musei appunto civici della rete non entrerebbe più nessuno insomma perché sono comunque piccoli musei anche allestiti bene con attenzione adesso negli anni veramente quasi tutti hanno fatto interventi per migliorare il rapporto col pubblico hanno creato sale di accoglienza multimediali aule appunto didattiche interattive sono piccoli musei però molti come dire hanno un'attenzione particolare però sono soprattutto musei aperti alla comunità locale ecco quello che stiamo però pensando di fare semmai un ricavo va fatto pensavamo di farlo invece con le biblioteche perché ad esempio la rete bibliotecaria offre veramente tutta una serie di servizi adesso avevo anche il D ecco lì sì un iscritto con la tessera della biblioteca della Romagnola per esempio ha accesso a una banca dati di 19.000 riviste specializzate può scaricare gratuitamente ebook può scaricare legalmente dei file musicali quelli della Sony ma può fare tantissime altre cose quindi ci sono tutta una serie di vantaggi come dire comunque anche economici per chi è scritto non è solo il prestito online e per cui si sta pensando la SID di far pagare all'utente il costo della tessera della biblioteca perché dà una serie di servizi aggiuntivi rispetto a quelli appunto della classica biblioteca di pubblica lettura cioè non ti faccio pagare naturalmente l'ingresso in biblioteca perché vieni prendi libri e quant'altro ma perché se sei iscritto alla mia biblioteca ecco hai tutta una serie di opportunità come dicevo riviste gratuite ebook file musicali ma anche altri che adesso non mi ricordo che comunque ho il Depliant qui che vengono fatti costo stiamo parlando di 5 euro l'anno ecco per cui viene ampiamente chi la sfrutta naturalmente da quel punto di vista viene sicuramente ampiamente ripagato e a quel punto adesso ci sono 300.000 iscritti per cui probabilmente di questi 300.000 iscritti forse non tutti sono disposti a pagare 5 euro i ragazzi sicuramente sì quindi le famiglie dei ragazzi perché sono quelli che sfruttano di più queste offerte della rete bibliotecaria però insomma ecco per i musei quelli piccoli medio piccoli no io li lascerei a ingresso gratuito tra l'altro ecco i musei per quanto sia per quanto riguarda per esempio le audioguide ecco lì è stato un piccolo aiuto che viene dato al museo ecco il museo gratuito quello sì chiede un costo un po' lì due euro o quello che è un euro anche simbolico oppure quel museo medio grande ecco lì magari qualcuno ha deciso va bene entri gratis però se vuoi l'audioguida come spesso succede la paghi a quel punto piccole cose mi rendo conto però quindi per l'organizzazione delle mostre integrate il fatto che c'è anche quel problema del biglietto sicuramente agevola e la stessa cosa questo è partito con le mostre ma c'è stata anche un'esperienza di attività didattica integrata anche lì una convenzione e anche lì ha previsto che alcuni musei organizzassero delle esperienze ecco lì poi forse volendo non c'era neanche bisogno della convenzione perché non ci sono state grosse spese quindi alla fine anche in maniera un po' si poteva fare anche in maniera un po' informale però giustamente è stato forse anche corretto così anche soltanto per organizzare questi laboratori queste attività particolari che fecero questo sicuramente da integrare integrata questa attività didattica sempre su uno stesso tema ci interessa parlare di questo tema sì anche questo sullo stesso tema lì erano erano stati musei demo etnoantropologici ce ne erano quattro sul territorio tra l'altro anche come dire dislocati bene proprio per questo tour anche loro hanno giocato un po' sul vieni a visitare se hai appunto il sabato o la domenica libero anche lì c'era bisogno di quattro cinque ore per fare tutto il tour erano questi musei anche poi dicevo dislocati in diversi punti proprio sulla al mare in pianura in collina e appunto in quest'area invece del delta del po' e quindi avevano creato anche lì un percorso una ricostruzione dei modi diversi di vita rurale non mi ricordo in quale periodo ed era molto divertente perché poi era soprattutto pensato per le famiglie e quindi ci doveva essere una ricostruzione alla fine veniva anche ricostruito non mi ricordo bene trovo qualcosa in internet riguardo a questa esperienza sì credo di sì sennò cerco di trovare io qualcosa non lo so se c'è se c'è tutto documentato in internet anche sì le attività didattiche forse non è che resta tra come idea come idea sì no 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 questo quindi era per quello capire a livello di sistema territoriale cosa può essere gestito in rete prima per esempio facevo l'esempio delle tecnologie è chiaro che il supporto tecnologico al sistema culturale romagnolo deve essere dato dall'ente di aria vasta non può essere anche un'unione dei comuni molto vasta comunque a un ambito territoriale che non è conveniente non costa sicuramente di meno quindi quello sì però altri tipi di attività appunto stiamo valutando quali e come gestirli quindi a che livello di quel duplice livello che c'eravamo detti di creare grazie riguardo a questo quindi in conclusione mi sembra di capire quindi che il sistema ha permesso di ridurre i costi quindi di fare economie più che altro più che invece generare entrate o comunque nuove attività diciamo lavorative connesse con il sistema proprio per la dimensione e la tipologia dei musei quindi con un'utenza che è più quella della cittadinanza invece penso di capire molto poco turistica quindi con un'apertura anche al circuito poi più ampio degli altri monumenti che sono visitati non riesce diciamo ad attrarre anche visitatori che frequentano insomma Ravenna e quindi monumenti principali come aveva detto prima stamattina sì oddio in parte qualche tentativo però è stato fatto per esempio in collaborazione anzi un'idea partita dall'ufficio per il turismo a cui ci siamo poi legati noi come sistema museale quella di fare una card esatto una card appunto dove pagando questa card entravi poi gratuitamente in tutti i musei ecco qui naturalmente hanno aderito i musei che che avevano un costo un biglietto noi abbiamo cercato di far inserire nella card anche gli altri e questo proprio per far sì che il turista poi andasse anche a vedere la bella pinacoteca di Bagnacavallo che abbiamo ma che è gratuita quindi non era inserita nella card il turista non sapeva perché semplicemente era gratuita però comunque da quel punto di vista mi ha lavorato di meno grazie arrivederci vieni Raffaele vieni vieni allora vi presento l'ingegner Raffaele Abouav che è il coordinatore Icon Puglia quindi rappresenta l'associazione di riferimento museale che è venuta a salutare la dottoressa Gennaro ma in realtà l'ICOM è anche partner di officine musei per cui ti passo subito la parola visto che vieni da Bari grazie benvenuta Eloisa sono contento che tu sia con noi ci fai crescere ci racconti un po' di cose belle ciao ciao niente sono contento che appunto Eloisa sia qui che la provincia di Ravenna ci dà un punto ci offre un'opportunità per capire un po' loro come si stanno si stanno un po' organizzando io ero andato lì a Ravenna qualche tempo fa due o tre settimane fa era l'otto aprile perché c'era anche da loro un convegno perché insomma ci si chiede tutti quanti e loro sono comunque una best practice italiana come ci si deve organizzare in funzione del fatto che siano sempre più scasse le risorse quindi abbiamo parlato di questo però nella crisi diciamo vengono fuori le idee uno si ingegna quindi bisogna un po' come dire non ringraziarla la spending review però comunque contrastarla con la creatività e niente io diciamo so che appunto a livello nazionale loro si sono fatti insomma come dire una bella diciamo esperienza nel campo educativo soprattutto l'ufficio di coordinamento educativo della provincia che è una cosa riconosciuta in tutte le altre regioni tant'è che appunto Eloisa è invitata a destra e a sinistra proprio per raccontare quello che loro fanno noi ci eravamo già visti a Foggia forse un anno o no due o tre anni fa no non ero venuta ah tu non riusciste a venire no perché avevamo organizzato un convegno che si non so se ti ricordi uno più uno uguale tre volevamo intendere il fatto che un museo più un museo insieme fanno più di tre musei e niente quindi insomma abbiamo questo rapporto che appunto a lungo termine loro non so come si svolta la giornata io questa volta non mi sono soffermata forse avrei dovuto farlo sulle nostre non tanto ho fatto un piccolo focus ma molto proprio una panoramica dall'alto quindi saltando anche devo dire un sacco di iniziative anche perché in quindici anni di vita anzi il nostro laboratorio è nato addirittura un anno il laboratorio permanente della didattica museale è stato istituito anche un anno prima rispetto alla nascita del sistema museale no io ho illustrato un po' come è nato il sistema come è strutturato quali sono le attività portate avanti gli obiettivi in particolare e poi anche io ho fatto riferimento invece proprio ho detto in questo momento anche il nostro sistema museale deve ripensarsi sia in vista delle riforme istituzionali sia in vista del fatto che le risorse sono ormai scarsissime noi nel 2013 non abbiamo in provincia ancora il bilancio ma qui in Puglia per il fatto che c'è questo punto ancora obiettivo uno insomma ci sono una serie di risorse chiamiamole straordinarie diciamo ancora cospicue però diciamo sono tutte risorse che vanno a impattare sulla infrastrutturazione piuttosto che non sulla gestione cioè è molto facile poter avere non so ci sa anche la direttrice del museo di Sansevero è molto facile avere risorse per fare un bellissimo museo magari un bellissimo allestimento meno risorse per avere un po' per pagare anche risorse umane attività diciamo quantomeno il rapporto non è bilanciato quindi oggi noi sentiamo molto soprattutto in Puglia dove ci sono tantissimi musei e molto piccoli sentiamo molto la necessità di razionalizzare un po' questa offerta oggi non coordinata da come dire da realtà che diciamo potrebbero appunto nascendo queste realtà rendere diciamo diventare una sorta di bacino ottimale per poi costruire dei servizi da pochi mesi sono partiti anche delle iniziative diciamo regionali che spingono in questa direzione ad aggregarsi è un esperimento in corso nel senso che aggregarsi non è facile aggregarsi per fare cose fatte bene è ancora più difficile però diciamo non c'è alternativa bisogna fare così per noi per esempio l'esperienza della rete questo io spero che sia stato chiaro per esempio non sono venuta io a Foggia venne Andrea che è poi il responsabile della cooperativa Atlantide è uno dei soggetti aggiudicatari di servizio non è l'unico no non è l'unico però ecco una cooperativa che lavora tantissimo nei musei del sistema e diciamolo lavora tantissimo negli ultimi dieci anni perché comunque questi piccoli piccolissimi musei prima che nascesse il sistema erano lì insomma che appunto tenevano giusto un po' aperto non avevano nulla per cui comunque la rete è evidente la rete non ha risolto tutti i problemi ma sicuramente ha dato una spinta per il museo a migliorarsi e quindi anche l'unica maniera per poter offrire non dico la risoluzione di tutti i problemi ma comunque uno scenario più promettente soprattutto a chi ha studiato un determinato tipo di studi e per passione intende lavorare in questo settore appunto dell'offerta culturale e che nascano dei sistemi diciamo in rete sostenibili e che quindi diciamo si creino quelle quelle stazioni fra virgolette appaltanti ottimali per poter diciamo mettere in gara servizi che diversamente non avrebbero ragion d'essere non potrebbero come dire andare avanti in modo sostenibile niente che dire non voglio rubare troppo spazio e niente grazie 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 allora io ringrazio la dottoressa Gennaro per la sua disponibilità per quello i suggerimenti le idee gli spunti operativi le buone prasse che ci ha fatto vedere veramente un intervento molto ma molto utile per noi e quindi la ringraziamo devo ringraziarvi anch'io perché alla fine anche tutta una serie di domande particolarmente insomma pertinenti sono servite anche anche a me quindi per capire anche come costruire il futuro della nostra della nostra rete va bene grazie allora noi ci rivediamo il 16 maggio con il prossimo incontro che sarà con il con 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 il professor Zifferero del del sistema fondazione dei musei senesi 16 maggio 16 maggio eh sì piacerebbe sentirlo anche a me ora noi ci rivediamo questi grazie grazie